Una brutta disavventura per il vice parroco di Pettino della parrocchia di San Francesco d'Assisi, Pino del Vecchio. 40 minuti di terrore per il giovane vice parroco. Il sacerdote, che è economo diocesano della Curia Aquilana, è stato sequestrato, picchiato e aggreduito da uno sconosciuto che più volte lo ha minacciato di morte prima di riuscire a fuggire e denunciare l'accaduto ai carabinieri, che però lo avrebbero già identificato anche grazie alla targa fornita dal vice parroco. Sarebbe un uomo di Fontecchio. Alla base del gesto, la convinzione da parte dell'uomo che il sacerdote, molto conosciuto e stimato, fosse l'amante della moglie, tant'è che lo aveva pure accusato di essere appena uscito dalla sua casa. I militari stanno indagando per verificare tutto il racconto. Fatti gravi che si sono verificati ieri sera intorno alle 19, fuori dal centro abitato del comune di Fontecchio, a una trentina di chilometri dall'Aquila. Il vice parroco stava raggiungendo i frati nel convento di San Francesco che lo attendevano e con la macchina stava procedendo in direzione Castelvecchio-Subequeo, quando è stato prima affiancato da un'altra auto e poi costretto a fermarsi e scendere da un uomo in evidente stato di alterazione. Lo avrebbe accusato sostanzialmente di essere l'amante della moglie, di essere appena uscito dalla sua abitazione. Don Pino ha pure provato a dire che si trattava di uno scambio di persona, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo gli ha tolto il cellulare, controllato minuziosamente, e poi lo avrebbe preso a pugni. Il parroco, dopo 40 minuti, è riuscito a liberarsi e a riprendere il telefono. E così è riuscito ad allertare i carabinieri della stazione di Fontecchio, il 118, a sporto regolare e denuncia ai carabinieri di Sulmona. Egli sono state curate le ferite in ospedale, giudicabili in cinque giorni. Nessuno, però, con le auto vedendo la scena, si è fermato.